Ciao, sono Biagio Izzo e volevo annunciare che dal 24 di novembre noi saremo qui alla Sala Umberto con lo spettacolo L'Amico del Cuore, che forse qualcuno ricorda che è il primo film di Vincenzo Salemi. Questa commedia è stata scritta da Vincenzo, curerà anche la regia di questo spettacolo, lo stesso Vincenzo. Lo spettacolo, una storia, anche se è stata scritta nel 91 con il titolo L'Ultimo Desiderio, poi è stata riscritta e diventata un due atti con il nome dell'Amico del Cuore, è ancora molto attuale. È una storia di amici, di tre amici, dove domina l'ipocrisia. Una commedia molto, molto divertente perché chi conosce Salemi sa che si ride tanto, però ti fa anche soffrire molto, ti fa anche riflettere e pensare. Domina, dicevo, l'ipocrisia, la gelosia, l'invidia, la circostanza, la parvenza, tutte quelle cose che nella vita noi usiamo e anche molto. Nessuno ha il coraggio di dire la verità a un amico. Solo la morte abbatte i pregiudizi, le circostanze, le parvenze e ti mette in condizioni di essere sincero. E infatti questo spettacolo racconta proprio questo. È uno spettacolo dove ci sono questi tre amici con una donna bellissima che appunto è mia moglie. Non voglio raccontare la trama, ma voglio soltanto che veniate a vedere questo spettacolo. Perché, dicevo prima, è veramente molto divertente ma fa anche riflettere. Una nuova scrittura è stata riscritta, è stato adattato a noi perché la differenza dal film e dalla commedia scorsa Vincenzo ha cambiato lo stato d'animo degli attori, il carattere degli attori. Quindi è completamente diversa. Quindi è una commedia scritta tanti anni fa ma veramente molto ma molto attuale. Quindi vi invito dal 24 di novembre a venire a vedere L'Amico del Cuore. Venite. Grazie. Grazie. Grazie.